Nel corso della conferenza stampa in collegamento telefonico l'assessore al turismo della regione Campania Conrado Matera che ha voluto evidenziare l'importanza di un evento come quello della festa dell'uva che affonda le radici in antiche tradizioni che fungono da trampolino di lancio per i territori interni della regione. In questa occasione rimarca il suo impegno nell'attenzionare tutti i territori interni e a conclusione l'assessore Matera ringrazia il comune di Solopaga augurando buon lavoro.